ciao a tutti ragazzi io sono l'unico e solo oggi siamo finalmente tornati su un gioco che mi piace tanto ma che purtroppo non lo posso portare per i problemi di bluxtax e credo ancora di non poter portare per i problemi di bluxtax, l'unica cosa che posso fare è tentare fare chest opening, almeno quelli lì anche se non ho i comandi, non rischio torfei e roba del genere, perchè sennò perdo torfei rimovedibilmente, però volevo tanto farvi vedere due modifiche che ho fatto, ho comprato la skin di Nita, poi la skin di Colt credo che si sia già vista nel mio video, non lo so, non ne sono sicuro, ma comunque la Colt Rockstar, e poi niente, tipo cazzeggiando ho trovato Carl, Piper e, 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 adesso mi ricordo il terzo, e Brock vabbè l'ho trovato con voi quando ero in live, con i mille trofei, forse stecca non l'avete mai visto, no, stecca mi sembra di aver trovato no, stecca non l'avete mai visto, quindi stecca, quindi direi che possiamo andare a fare un altro chest opening, non gioco partite perchè con la con, cioè non con la connessione, ma tanto con il sistema operativo lì di bluxtax è impossibile se non voglio tipo bestemmiare in tre lingue, ok, subito con le casse piccole, monete, so già che non c'è un brawler, infatti, ma in compenso c'ho bull, che è ottimo, poi Brock, che lo posso già migliorare ma non ho le monete per migliorarlo e non ho intenzione di migliorarlo perchè non lo uso, poi cassetta 30 monete, punti energia di Brock, punti energia di Piper e via, poi 16 monete, Shelly e Piper di nuovo, raga, stanno iniziando a sparmare i Piper, prima mi sparmano Poch, poi mi sparmano, poi adesso mi sparmano Piper, che per carità non mi fa schifo, perchè è un brawler che contro di me funziona benissimo, poi se lo uso io, non so perchè, ma faccio pena così come con tutti i brawler, forse non è che il brawler fa schifo, ma sono io che faccio pena, prossima, 17 monete, il bombardino e Penny, che Penny la devo anche potenziare, vediamo se riesco a potenziarla, tra l'altro che magari, tipo, poteva servire, visto che la sto usando tantissimo in questo momento, no, ancora no, va bene, 16 monete, Frank, che Frank è tosto, raga, Frank è bellissimo, perchè tipo, quando sei nel momento più della cacca e c'hai la super, SPOTABAM, e tipo, frezzi tutti, congeli tutti, spacchi tutto, hai vinto, vinci la partita con la super, perchè la super ti dice già, proprio, con questa super hai vinto la partita, quindi tu fai SPOTABAM, tipo, ti compare già nell'avviso, hai vinto la partita, e Brock, ho i biglietti per gli eventi che mi salvano, perchè questa, tra due giorni e dodici ore, quindi sono le 9.13, quindi, ven, sabato, esce ride, quindi i biglietti mi servono, poi, 16 monete, punti energia di Nita, NITA, e di nuovo Piper, me ne spavano Piper, prima non la trovavo, poi adesso che l'ho trovata, trovo solo Piper, non si spiega sta cosa, poi, monete, bombardino che lo odio, e Bull che invece mi piace, voi lo sapete già che Bull mi piace un sacco per la sopravvivenza più che altro, che è tipo un tank, spara, spara, spacca tutto, tira anche distanza, ma quando tira distanza fa poco danno, ma quando te lo trovi davanti fa SPOTABAM e te lo fila su, in quel posto, monete, Shelly e Piper, oh no, oh, Carl, benvenuto Carl, adesso trovo anche te nelle casse, finalmente, accidenti, che non l'ho mai trovato nelle casse, no, in realtà l'ho trovato, lui l'ho trovato nelle casse perché, tutta la gente shoppa Carl, perché lo volevano tutti quando è uscito, c'era tipo l'offerta lì di, con 60 gemme, ti shoppavi Carl, tutti hanno shoppato Carl, io l'ho trovato nelle ceste, prossimo, ragazzi, vediamo, 17 monete, Penny di nuovo, Clash Royale può esplodere, e Pocho, interessante, poi, via con le monete, non trovo Brawler stasera, no, di nuovo Piper, ma basta, minchia l'ho trovata finora Piper, basta, io l'ho bombardino Crodio a morte, e prossima, invece, 18 monete, ma la dovevo aspettare, ragazzi, l'aspettavo, l'aspettavo, lo sapevo che c'era, l'altro che odio a morte, però io non lo sopporto, quel maledetto chitarrista lì, non lo sopporto, lo potessero togliere dal gioco, mi farebbe un piacere, invece che nel farmi Leon, che tra l'altro io non c'ho mai, quindi non mi serviva, però, so che Leon prima era forte, e poi l'hanno nerfato, da Stamford, Stamford, da Avvocati, Stamford, Stamford, ad Orologi, Stamford, Stamford, mi fermo da mille anni, perché è sempre il mio momento sei, va bene, direi che adesso abbiamo visto sto figo cataperti, catafratto, adesso mi manca soltanto un'ultima cassa, che aprirò, ma prima di aprirla, voglio che lasciate un bel mi piace, vi do 5 secondi di tempo, non 10, 5, 5 secondi di tempo, per lasciare un bel like, 1, 2, 3, 4, 5, mi baso sulla fiducia che l'avete lasciato, dai, apriamola, vediamo cosa ci troviamo dentro, 90 monete, interessante, i punti di energia di Carlo che mi servono, perché lo devo potenziare, punti di energia, spettacolo rega, colt, il primo, bonus, dei biglietti dei 20, e oh, finalmente ho trovato delle gemme, che stasera non avevo ancora trovato delle gemme, cioè, o comunque su Clash Royale invece sono arrivato 100 gemme, che è tanta roba, domani, chissà che eventi ci saranno, per adesso sono raffagemme, sopravvivenza, ricercati, assedio, e guabbè, ride, che deve iniziare a due giorni, tra tutto non capisco perché non li fanno in settimana, li fanno soltanto nel weekend, vediamo cos'è, che mappa, questa mappa, qua la odio, io con questa qua non riesco a usare colt, tipo, dovrei utilizzare i penni, che almeno la piazzo tipo dietro, piazzo numeritario dietro qualcosa, e butto giù quel coglione lì, va bene, direi che per questo video è tutto, se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento, un mi piace, ma mi piace lo dovete aver già lasciato prima, quando vedete prima della megacassa, perché sono una marabbio io, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!